L'ottava giornata conferma l'ascesa di San Nicolò e l'Aquila. Le due squadre cercavano il tristi di vittoria e l'hanno trovato. Impressionante l'affermazione della squadra di Massimo Epifani, attesa dalla difficile trasferta sul campo di una squadra in forma come il Campobasso. E la risposta è stata eclatante, 5-1 che non ammette repliche. Una partita giocata in crescendo da San Nicolò dopo il botte risposta di inizio gara e il gol di Traini alla mezz'ora. Nella ripresa i molisani crollano e il San Nicolò dilaga con Bisegna, Moretti e il gol del classe 2000 di Stefano. Terramani ora terzi a tre punti dalla vetta. L'Aquila nel girone G fa suo, come da pronostico, il match con la Torres, ora fanalino di coda. Solo nel finale la squadra di Morgia ha chiuso definitivamente i conti, fiaccando la resistenza della squadra sassarese. In gol Russo e Brenci nei finali dei due tempi. I margini di crescita sono ancora ampi e intanto il primo posto, al momento condiviso dalle tre laziali, Rieti, Albalonga e Ostiamare, è lì a due punti. Sempre nel girone G torna a fare punti l'Avezzano. L'1-1 di San Teodoro ha risvolti agrodolci. Da un lato positivo perché i marsicani superano il virus sardo che aveva provocato le tre sconfitte consecutive e perché per un'ora hanno giocato in 10 per l'espulsione di Bittaglie. Resta il rammarico per il rigore fallito da Tabacco e per non aver protetto il vantaggio segnato dallo stesso Tabacco, a cinque minuti dalla fine di Malesa, il gol del pari. Tornando al girone F, seconda sconfitta consecutiva per la Vastese che non ha superato i postumi del tonfo interno col campo basso. La squadra di Colavitto subisce lo stop alle Benelli dalla Vispesano, trascinata dai gol del solito Costantino e di Mureno, nel mezzo il momentaneo pareggio di Fiore. Ora la Vastese è attesa da un derby all'Aragona, quello contro il Pineto, che dal canto suo sembra essere al momento uscito dal tunnel con la cura a Maulo. Gli Adriatici tornano alla vittoria al Mariani Pavone, battendo l'Alfonsine in una gara complicata dall'immediata espulsione dell'estremo Mazzocchetti. Il Pineto però è più forte dell'avversità, faleva sulla giornata di grazia dell'attaccante Antenucci che sigla una doppietta. Il tentativo di rimonta degli emiliani viene sedato dalla terza rete di proietti che rende inutile anche la seconda rete dell'Alfonsine. Il Pineto lascia così il penultimo posto dove resta la Re Canatese. Si dovrà rigiocare da capo la gara tra Monticelli e Chieti. L'infortunio dell'arbitro evita l'ottava sconfitta consecutiva ai Neroverdi che all'intervallo erano già sotto di due gol.